Un signore sta facendo shopping durante una svendita. Cosa e quanto compra? Mi scusi, questa camicia è disponibile solo in un set da tre? La può acquistare anche separatamente, ma le costerà molto di più. Beh, non mi servono tre camicie tutte uguali. Come posso fare? Se compra anche questo set di tre cravate, le possiamo fare uno sconto sulle camicie, così ne prende tre al costo di una. Quindi, se ho capito bene, tre cravate, tre camicie per il prezzo di una? Esatto. Va bene, significa che darò le altre due camicie a qualcun altro. Benissimo, ha fatto un affare. Cosa e quanto compra? Un signore sta facendo shopping durante una svendita. Cosa e quanto compra? Mi scusi, questa camicia è disponibile solo in un set da tre? La può acquistare anche separatamente, ma le costerà molto di più. Beh, non mi servono tre camicie tutte uguali. Come posso fare? Se compra anche questo set di tre cravate, le possiamo fare uno sconto sulle camicie, così ne prende tre al costo di una. Quindi, se ho capito bene, tre cravate, tre camicie per il prezzo di una? Esatto. Va bene, significa che darò le altre due camicie a qualcun altro. Benissimo, ha fatto un affare. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti!